Mamma mia, guardate che capelli e che barba mi tocca fare il video così, mannaccia la quarantena, mannaccia va Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di ManuSport07 Siamo qui ragazzi, io sono un comunissimo tifoso di Ventino Pugliese ragazzi E voglio spiegarvi un po' secondo il mio punto di vista Quali sono le cause del perché la Juve da due anni a questa parte è crollata Insomma, intanto dammi qualche rigorino di più perché anche gli arbitri di conto ce l'abbiamo avuti No vabbè ragazzi, ovviamente una piccola percentuale ce l'ha anche la sfiga Però vi annuncio subito che per me le cause sono sette La sfiga è praticamente l'ultimo dei problemi Ok, abbiamo avuto tanta sfiga, non si mette in dubbio assolutamente Sicuramente anche gli altri di voi si penso possono essere d'accordo con me su altre cause Però ragazzi non è solo quella, la causa, le cause sono tante L'aver mandato via Allegri, le cessioni inutili, la società sicuramente L'aver mandato via Beppe Marotta, ragazzi, che è una cosa molto sottovalutata L'effetto che ha fatto Cristiano Ronaldo, che è stato purtroppo un effetto più che beneficiario Ha portato malizia, diciamo così Quindi insomma le cause sono tanti Gli allenatori, se gli allenatori hanno colpa, ragazzi Per me ogni cosa è una percentuale Quindi vi dirò, società 50%, l'aver mandato via Allegri 30, eccetera eccetera Andiamo ad analizzare tutto questo in questo video Con un po' di ironia, perché no ragazzi E niente, non perdiamoci in chiacchiere Non scioglio lingue certe volte Non perdiamoci in chiacchiere ragazzi E partiamoci due col video, vamo Che pensi a un riso che ho? Non lo dice spesso, chiacca però Ho veramente un bel sorriso Una cosa che viene sicuramente poco riconosciuta Dai di voi di Juventini, ma anche in generale È l'aver mandato via Marotta Intanto le cedute in una diretta concorrente Perché tu sai che nel momento in cui tu mandi via Marotta L'Inter cercava un DS Marotta sarebbe sicuramente andata all'Inter Che era una squadra in crescita E che avrebbe assicurato a Marotta un progetto molto molto importante Incentrato su di lui Perché lì ma ragazzi, parliamoci chiaro Il mercato chi lo fa secondo voi? Marotta ha portato all'Inter veramente acquisti top Forse l'ultima sezione Se l'ultima sezione Ho un po' da storcere il naso Ma solo il pensiero di dire Di prendere Hakimi Che è un esterno destro che fa perfettamente per il gioco di Conte Veramente una cosa incredibile Marotta che aveva sempre una soluzione Sia alla Juve e ce l'ha anche all'Inter Tra gli esuberi Ovvero le cessioni Tra gli esuberi e gli acquisti Gli esuberi per Marotta li piazza sempre E poi a parte che Prima di Marotta Non c'era il problema di cessioni Cioè Zaza Tu sapevi Partivi in una sezione di calciomercato Che sapevi Chi dovevano essere le cessioni E chi dovevano essere gli acquisti Magari gli acquisti te li faceva pure male Come Hernanes per dire Perché Hernanes si eliminava Se ne aveva due acquisti fatti male l'ultimo giorno Però ragazzi Marotta ti garantiva quella sicurezza Che Paratici non ti dà Paratici ha fatto un casino Con gli esuberi che veramente Ogni sessione di mercato Sono 15 giocatori che non sanno Se devono rimanere o nero Rimanere o meno Giusto 5 o 6 che sono certi di rimanere Quindi insomma Non si capisce niente Comparatici Invece con Marotta C'erano magari Due giocatori O tre giocatori Che erano sicuri Partenti E partivano alla fine E al massimo Un esubero che non veniva piazzato E ti rimaniva in rosa Però ragazzi Marotta è stato sempre impeccabile in questo E ci aveva soprattutto visto lungo Sul progetto Cristiano Ronaldo Quindi Super Marotta Un 10% di percentuale Lo attribuisco anche a lui Diamo gli suoi meriti alla fine Ne parlo spesso In i miei video ragazzi Però all'effetto Ronaldo Non voglio dare Una percentuale molto alta Di questo fallimento Perché pur sempre Cristiano Ronaldo Uno che ti ha fatto 90 gol Quindi insomma Alla fine Più gol mi fa Più assist mi fa E meno Soprattutto nelle partite importanti E meno percentuale gli do Anche se sicuramente Secondo me Sono più i danni Che sono stati fatti Con questo acquisto Che i benefici Ma non è stato l'acquisto Di Ronaldo il problema Perché sicuramente Tu non gli hai messo Un centrocampo all'altezza Non hai messo Nella torre all'altezza Anche se Può pure darsi Che ha detto Ronaldo A lei criò la mando via E noi non ne sappiamo niente Ragazzi Perché non sono là dentro Tutti gli youtuber Che ne parlano 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 Non sono mai Lì dentro Lo spogliatoio Magari uno da grande Quando fa 50 anni Ronaldo Si mette Lo dice in un'intervista Lo allegri L'ho mandato via io Ma fino a quel momento Ragazzi Nessuno saprà mai nulla Quindi insomma Io parlo di quel che ho E di quel che Delle informazioni che ho Che avete tutti voi E di quel che mi posso intuire Chiaramente Innanzitutto Ma il contento Di altri giocatori Perché il secondo giocatore Che prende il più dopo Ronaldo Se non me ne erro È Delict Perché Delict Non vorrei sparare Una cagata Magari ora lo cerco pure su Google Ma prende 12 milioni all'anno E dopo Delict Ci sono i vari Ramsey Rabiot E Dybala Che prendono 7 milioni Anche Guaina Ne prendeva 7 E se non mi sbaglio Non c'è più nessuno Però insomma Alla fine Ma il contento Dei giocatori E del loro stipendio Abbiamo visto Cosa è stato col caso Dybala Non valorizzare Il resto dell'attacco Ragazzi Perché è stato chiaramente Un errore anche Non valorizzare Il resto dell'attacco Intanto qua Devo mettere Tutto i password E tutto però Non valorizzare Il resto dell'attacco Ragazzi Perché Douglas Costa È un'ala sinistra E quando è arrivato Ronaldo Douglas Costa Lo mandi a destra Dove non è perfettamente Del suo stile di gioco Douglas Costa Abbiamo visto Come le migliori partite L'ho giocato come Ala sinistra Quindi Douglas Costa Ala sinistra A vita Perché da lì Ti faceva 15 assist A stagione E tu l'hai mandato via Eppure era sempre fortunato Però 15 assist A stagione Te li faceva E quindi L'hai mandato L'hai mandato a destra Quindi insomma Due domande Me le faccio Dybala soprattutto Dybala e Pjanic Che non hanno più potuto Battere punizioni Iguain che l'hai mandato via È tornato l'anno dopo Perché non c'era spazio Quindi vabbè È stato mandato via Manzuki Diciamo Alla fine Il suo istituto di Guain È stato Il suo istituto di Manzuki C'è stato Iguain Quell'anno E vabbè Però insomma Mi hai mandato via Sfanculizzato Iguain Dove comunque Sono stati fatti Due presidi A Chelsea E Milan Che non hanno voluto Riscattare Ne un e nell'altro E quindi alla fine Dai 90 milioni Non ci hai ricavato un cazzo Perché ci hai fatto Una recessione Un po' Secondo me è inutile Perché come quarto attaccante Te lo potevi pure tenere Pianice di Palo Non hanno più tirato le punizioni Si sono messi a litigare Tra di loro E tra l'altro Ronaldo di punizione Non aveva segnato una Non ha segnato una In tre anni Dove ne ha tirate tutte lui Non gioca tra le linee Per il gioco di Pirlo Abbiamo creato una Ronaldo Dipendenza Perché le squadre per Ronaldo Giocano per Ronaldo Di conseguenza Quando ti trovi senza Ronaldo Non è che senza Ronaldo Hai creato una squadra Così di merda Che non ti munici Ma con il Venemento ragazzi A parte che con il Venemento Senza Ronaldo Abbiamo pareggiato E con Ronaldo abbiamo perso Però Con Ronaldo C'è una certa dipendenza Che è ovvio Che se la squadra Gioca tutta per lui E' abituato a fare Quello stile di gioco Quando si trova senza Ronaldo Sono dei pesci fuor d'acqua Che giocano col cuore Ragazzi Ma non giocano con una tattica Almeno per me Non giocano con una tattica Tecnica ben preparata Ragazzi Almeno secondo me Il calciomercato Poi ci ha messo del suo E tutto Però non abbiamo valorizzato Abbiamo praticamente Sfanculizzato Di Bala Douglas Costa Piani Ciguaina Qui non viene stato Il giusto valore Ragazzi Di Bala Ha fatto 17 gol Ma non con la squadra Che giocava per lui Ha fatto 17 gol Lo spostavano con lui Che si scartava tutti Basta vedere gli ultimi 5 gol Quello con l'Inter Se lo scarta lui Quello con il Milan Romagnoli se lo scarta lui Quello con l'Inter Young se lo fa fuori lui Quello con l'Inter All'andata poi E lui a fare un capolavoro Ragazzi Poi con il Lecce Con il Genoa Si è scartato tutti lui Con il Torino Ha tirato da fuori area Quindi insomma No aspetta Con Torino Con il Lecce Tirò da fuori area Con un goniometro Installato sui piedi Quindi insomma ragazzi Ci sono tanti giocatori Che non ne hanno beneficiato Quindi attribuisco Un 15% Devo correre di fretta ragazzi Perché se no Il video mi viene di mezz'ora Un 15% Lo attribuisco A questo effetto Questo acquisto Di Cristiano Ronaldo Che insomma Alla fine A parte che quando Sbaglia lui Nessuno se ne accorga Insomma Secondo me L'effetto Ronaldo Ha un 15% di colpe E veniamo anche A questo fattore ragazzi 10% Lo attribuisco Alla sfortuna ragazzi Sì sì So che non è bello Attribuire le cose Alla sfortuna Però ragazzi Sicuramente Altri avrebbero attribuito Secondo me Anche un 20-30% Tranquillamente Lo attribuisco un 10% Perché ci sono colpe maggiori Certo se poi Ora stiamo parlando Di tracollo Juve Ma insomma Tracollo Juve Non se ne sarebbe parlato Se magari L'Inter Avesse 9 punti in meno Perché tu magari Hai pure perso Un sacco di punti Pure col Benevento Col Benevento Hai fatto un punto In due partite Ma se l'Inter Questo campionato Noi eravamo a meno uno Da Inter e Milan E di fallimento Non si parlava Solo perché siamo a meno uno Da Inter e Milan O se in Champions Magari Delicto non usciva Se in Champions Delicto non usciva E quell'Ione Segnava con Tuzart Quando Quei 10 secondi Che stava Delicto Fuori dal campo E non c'era Ghiellini Cetera eccetera Stiamo parlando Di non fallimento Juve Quindi insomma ragazzi Alla fine Attribuisco un 10% Alla sfiga Ma si parlerebbe Solo di sfiga Qualora la Juventus Sarebbe un po' più in alto Nelle competizioni Secondo me Innanzitutto Già abbiamo la rosa corta L'Inter invece Ha la rosa lunga All'Inter Non si infortuni A me un cazzo di nessuno C'hanno pure il culo Ma scusate ragazzi Ho noto ripatto C'hanno pure il culo Che non mandano i giocatori In nazionale O cose del genere E che quando Si ammalano i giocatori Di covid C'è la pausa nazionale C'è veramente Una cosa incredibile A parte che gli è stata Rinviata la partita A loro Noi abbiamo giocato Con l'Inter Con tre positivi al covid Che erano Alessandro, Danilo e Quadrado Se mi sbaglio Erano questi tre Alessandro No Danilo c'era Erano Alessandro, Quadrado E niente ragazzi Non mi ricordo il resto Però se non mi sbaglio Erano questi Forse Bentancur No Bentancur Era recente Madonna ragazzi Perché non mi ricordo le cose Però Alessandro È sicuro E se non mi sbaglio Pure Quadrado Sì anche Quadrado Mi sa Vabbè Comunque abbiamo giocato Il derby Con tipo tre Quattro infortunati Tra quei di bala Con Avevamo giocato Il derby Con tre Infortunati Con tre Giocatori al covid E quattro infortunati E insomma ragazzi Abbiamo perso L'Inter Quella partita Aveva tutti i giocatori disponibili Probabilmente Perdevamo lo stesso Però l'Inter Quella partita Aveva tutti i giocatori disponibili E quando si infortuna qualcuno C'è la stessa nazionale Ragazzi È un dato rifatto Ragazzi È veramente Un cuno incredibile Che hanno E loro c'hanno pure La rosa lunga Sono stati più intelligenti Perché loro hanno marotto A fare la rosa lunga Poi in Champions League Sono sempre stati sfigati ragazzi Perché con l'Ajax Comunque Magari Perdevamo lo stesso Ci mancherebbe Però insomma Guardate il gol di Van de Beek Ma perché nessuno ne parla Perché tutti parlano di fallimento Juve Ma guardate il gol di Van de Beek Guardatemi il gol di Van de Beek Quello dell'1-1 Al ritorno Cioè ragazzi Guardatemi quel gol Fece l'1-0 Ronaldo E Van de Beek L'1-1 Non sa nemmeno lui Come cazzo l'ha fatto Alla fine Come hanno segnato Con due Con quattro ripartenze ragazzi Con Van de Beek Che insomma Si trova il tiro Si trova il prone lì Segna Un calcio d'angolo Cioè insomma Cosa vogliamo rimproverare alla Juve Mancanze di personalità Ma quale mancanze di personalità Hanno segnato su calcio d'angolo Dove comunque Sono dei gol casual Chiamiamoli così Magari non marcava bene qualcuno Però insomma Non è che hai subito Il gioco dell'Ajax Eh almeno Secondo il mio punto di vista Poi con il Lione Loro hanno segnato Quei 30 secondi Che sono fuori dell'Ict E al ritorno Su un rigore Credo Secondo me inventato Anche se pure quello a noi Era un po' inventato Però dettagli In Champions e rigori Li fischiano un po' a cazzo Cioè non so perché Ti falciano un giocatore E non te lo fischiano Come tu mi l'ha scosta Col Tottenham tre anni fa Ti falciano un giocatore E non ti fischiano rigore Però quando Bernardeschi tocca Con l'unghietta Del mignolino del piede Al giocatore loro E collocate Ok Poi non so perché A parte che c'era anche Un rigore con noi Con Ronaldo Granetto Quello con il Porto A parte che col Porto Ti mancava Di Bala McKennie, Arthur Bonucci e Chiellini Non erano al meglio Danilo era squalificato Cioè insomma ragazzi C'è una sfiga Il Champions Speramente fuori dal normale Ve ne sto negando tutte Con l'Ajax Si è visto come hanno segnato Disattenzione di Alessandro All'andata Wanderbeck che segna Un po' a culo Con il rimpallo E il terzo gol Sul calcio d'angolo Non è che abbiamo subito Il gioco dell'Ajax Con Lione Erano fuori di Bala e Chiellini Ma soprattutto Con Lione Come hai perso Insomma Con il ritorno Un rigore palesemente Inventato fin dei primi minuti Che ti demoralizza la squadra E con l'andata Un Con l'andata Un gol Quando De Ligt Era fuori Quei 30 secondi Cioè insomma ragazzi Veramente Una roba incredibile Poi con il porto Con il porto Erano fuori Di Bala Era fuori Danilo squalificato Artur Bonucci Meccanica e Chiellini Non erano al 100% Quindi insomma ragazzi Una cosa fuori dal normale Poi come hanno segnato loro Cioè dai su 4 gol Errore di Bentancur Errore di Ronaldo Sulla punizione Ronaldo Scesni Fate voi A chi cazzo dare la colpa E come cazzo Sono segnato Su un rigore Quindi insomma Veramente Ragazzi Io Io veramente Non ho Palesemente parole Perché insomma Hanno segnato in tutti i modi Tranne che giocando a calcio Noi invece Sia con l'Ajax Che col Porto Che con l'Iona Abbiamo fatto dei gol Normale No con l'Iona No perché C'era un gol Di Ronaldo Su rigore Però insomma Con l'Ajax I due gol di Ronaldo Erano due gol Belli Su azioni Lo smarcamento E tutto Con il Porto Abbiamo fatto 4 gol In due partite Su azioni ragazzi Insomma non è che stavano Calci di punizione Di rigore Di Un gol a culo Insomma Quindi insomma È andato di fatto Che sicuramente Anche con il Covid Abbiamo avuto Degli numerosissimi infortuni E quindi è andato di fatto Che la Juve è stata Sfortunata negli ultimi anni Almeno secondo Il mio punto di vista E ragazzi E ragazzi Sicuramente abbiamo Da attribuire Una colpa Anche agli allenatori Ragazzi Un 5% Almeno agli allenatori La do Pirlo Non mi soffermo tanto Pirlo Secondo me Le sue colpe Sono innanzitutto Quelle di non aver Trasmesso la grinta Perché si viene a me Di scendere il latte Quando parla lui Duro dei giocatori E soprattutto Non aver gestito I giovani ragazzi Perché Pirlo Quando vinceva Quella partita 3-4-0 Era lì Che doveva mettere Fra botta I fagioli Porta nuva Per fargli abituare Alla squadra È stato fatto All'inizio Quando metteva Ripetutamente Fra botta È stato fatto All'inizio Sta cosa qui Ma non è stata fatta dopo Non è stata fatta Assolutamente dopo Sta cosa Il che mi fa Un po' dubitare Cioè insomma Fagioli Col crotone Potevi mettermelo E farlo abituare A giocare alla Juve Mi facevi anche riposare Un meccanico Che non era al meglio Se dici che non sta al meglio Così come magari Potevi mettermi più spesso Magari Fra botta Che ultimamente è sparito E quelle partite Che vincevi 2-3-0 Mettilo Mi fai rifiatare Alexandro Così non si infortuna più E vaffanculo Cioè insomma ragazzi Sarri invece Ha gestito male Merecian La questione Di Merecian E Mandzukic E la questione Sarriismo Perché se tu sai Che vuoi fare il tuo gioco Che è un gioco veloce Un gioco di prima Eccetera eccetera Vuoi fare sto cazzo Di Benedetto Sarriismo Fammi giocare più spesso La seconda linea Anche se tante Non è che avevi Tante seconde linee E poi E poi Sto cazzo di Sarriismo Lo facevi Quindi insomma Sicuramente delle colpe Vanno anche A Sarri E a Pirlo Sarri è stato gestito male Un po' Tutto durante l'anno A Pirlo magari Le do un po' Più di meno colpe Per come sono state gestite Un po' le formazioni Vabbè questo Non è che gli posso dar colpi Alla fine Perché ragazzi Hanno errore di esperienza Ragazzi Lo sapevamo già Che Pirlo Avrebbe avuto questo Questo tracollo Ecco Questi problemi Di formazione Di esperienza Ma a parte che Se me li capisco Io che ho 14 anni Perché ho detto 14 anni Ho 17 Dove mi è venuto Era dire che ne ho 14 E insomma ragazzi Queste sono Sono le colpe Ecco Quindi Non so come Il video è terminato qui ragazzi Fatemi sapere se siete d'accordo Se siete d'accordo o disaccordo con me Quindi Se andiamo a ricapitolare In ordine ragazzi Un 20% È l'aver mandato via Allegri 30% la società 10% le eccezioni inutili 10% l'aver mandato via Marotta 10% il fattore sfortuna 15% l'aver mandato Cioè l'effetto Cristiano Ronaldo Diciamo così E il 5% Lo do agli allenatori Quindi insomma ragazzi Questo È quello che ho da dire Io se il video ti è piaciuto Ti invito a lasciare un mi piace Caso contrario Un dislike Come se siete d'accordo O disaccordo con me Se non ne ho ancora fatto Iscrivetevi al canale In descrizione Al canale come l'ho detto In descrizione Al link per seguirmi su Instagram Da Manuspargiore 7 È tutto E noi ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi I have a dream That's all I need I'll make it happen With some luck And belief Know what I want So I'll take it on I've made mistakes But mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown I'm gon' get it You hear me? I'll make it happen I'll make it happen I'll make it happen I'll make it happen And these ladies No It's not I'll make it happen